Insieme a mia moglie abbiamo deciso di organizzare perché ci sentivamo di farlo, quindi è giusto poi aiutare chi ha bisogno. Noi ringraziando Dio facciamo un mestiere dove siamo dei privilegiati, quindi ogni tanto non bisogna mai dimenticare quelli che hanno più bisogno. Sì, è una serata importantissima per aiutare i malati di SLA, quindi bisogna cercare di raccogliere il più possibile. Sì, è una bella iniziativa, è stata un'iniziativa fatta dalla moglie di Antonio, siamo tutti contenti e felici di poter partecipare a questa serata importante. Sì, è una bella iniziativa. Sì, è una bella iniziativa.